ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della gira gira camper srl sono giovanni e sono qui per farvi la recensione la video recensione chiamiamola come volete del nuovo elnak t loft 530 su fiat ducato 2 2 140 cavalli chiaramente prima di iniziare vi consiglio di seguire il nostro canale youtube e di mettere la di schiacciare la campanellina per essere sempre aggiornato cerchiamo sempre di fare dei video nuovi ogni settimana siamo un po in ritardo ma ci siamo arrivati allora il veicolo che vi presento oggi un semi integrale con basculante anteriore e gemelli posteriori che si possono chiaramente unire è un veicolo da 7 metri 45 solitamente e secondo me la disposizione migliore la lunghezza giusta per un veicolo con i gemelli posteriori perché su 6 99 è leggermente più stretto quindi sicuramente un camper per chi vuole la comodità cinque posti emulogati cinque posti a dormire guardiamoli insieme allora di serie tantissima roba nel senso che loro danno i cerchi in lega la calandra verniciata i paraurti verniciato con la carrozzeria anche se sembra una cosa standard ma in realtà non lo è la calandra che vedete qua davanti ho skid plate nera lucido contrastato del nero opaco abbiamo una fiancata sia destra che sinistra con non tantissimi adesivi la tenere molto la fanno apparire molto sganciata molto lineare un veicolo assolutamente elegante chiaramente ha fatto un aggiornamento già l'anno scorso ma ha fatto un aggiornamento per la parte interna appunto del veicolo stesso adesso ve lo farò vedere e così almeno la commentiamo insieme in questo veicolo in questione per il veicolo in questione abbiamo scelto due pack che secondo noi sono relativamente importanti che sono il pack expo e il pack enjoy il il pack expo di elnag a retrocamera viene installato sul veicolo da casa madre la retrocamera il pannello solare da 120 watt e gli oscuranti prissettati che vedete nella parte cabina che ormai conoscete molto bene perché li richiediamo praticamente su tutti i veicoli mentre il pack enjoy si vede subito perché alla veranda appunto la veranda la cabina nel garage con la parete posteriore attrezzata la presa d'acqua esterna la presa d'acqua di gas esterno e la presa multifunzione esterna quindi 12 volt 220 antenna satellitare antenna tv predisposte anche per l'esterno appunto luce esterna compresa nel prezzo del veicolo garage di dimensioni assolutamente considerevoli ve lo faccio vedere molto bene come vedete garage molto ampio molto alto molto largo con la parete attrezzata come dicevamo sulla parte sinistra che quindi mi dà la possibilità di legarsi uno scooter o delle bici e mi dà assolutamente senso di compattezza di rigidità e quindi mi evita durante la marcia che la roba che c'è in garage vada dove vuole la retrocamera la vediamo posta sotto il terzo stop ed è collegata sul monitor specchietto che vedremo all'interno molto bello come nella nella storico nello storico modello t loft e il bicolore del paraurti quindi grigio chiaro in basso grigio scuro in alto che poi va a riprendere il colore degli adesivi appunto entriamo all'interno vi faccio vedere le novità ovviamente parliamo di una prissettata e di una porta con lucernaio e oscurante chiaramente la porta si può chiudere ad aprire perché quando si chiude davanti e centralizzata quando entriamo vediamo gli aggiornamenti che ci sono stati l'anno scorso soprattutto a livello estetico quindi questi colori nuovi e il chiaro e lo scuro lucido che vanno a contrastare molto bene che erano un ambiente molto molto elegante il veicolo è totalmente illuminato a led chiaramente il tessuto è a scelta noi abbiamo scelto questo tessuto che secondo noi molto molto bello per il veicolo perché si sposa bene con le pallette e con i colori sulla cucina abbiamo inserito in aggiunta anche gli isofix per attaccare un seggiolino o due sfina fino a seggiolini in realtà perché possono essere posizionati sulla panca fronte marcia mentre il posto il quinto posto omologato e contro il senso di marcia e avviene su questa parete cioè viene girato praticamente il cuscino e si viaggia al contrario andando avanti troviamo la cucina con i tre fuochi in linea che ormai praticamente adottano tutti questo mi dà la possibilità di ricavare uno spazio di appoggio davanti un lavello molto ampio in alluminio incassato qui abbiamo la nostra mensolina per andare appoggiare qualsiasi cosa ci serva possiamo addirittura metterci anche la macchinetta del caffè come fanno altri marchi parete anticondensa lucida finestra con lo scurante zanzariero chiaramente sopra cucina abbiamo un bel pensile già parzializzato con la nostra mensola guardate che gioco di luci che comunque va a riprendere anche perché secondo me sono veramente molto belle molto curati anche dietro la spalletta della cucina abbiamo un passaggio luci una striscia led che lo arricchisce molto sono molto ampi i vari pensili cucina ad esempio la prima parte di quello sotto il lavello e molto punto profondo arriva alla parete questo invece utilizza un cestello per permetterci di caricare meglio le nostre cose nella alla parte sinistra della cucina abbiamo invece dei cassetti uno per il porta posate un cassettone per le pentole e l'ultima parte che leggermente più striminzito perché c'è il passaggio dei cavi e quindi la si parla di un vano che per metà è assolutamente a scopo di passaggio cavi elettrici e riscaldamento dalla parte destra troviamo il nostro frigo molto grande con già diviso frigo e freezer ovviamente un trivalente con funzione automatica subito sopra abbiamo un bel pensile dove riusciamo a caricare veramente tanta roba perché già parzializzato anche lui in alto troviamo il regolatore di carica del pannello solare cosa che ci interessa poco nel senso che quello fa solo da collegamento tra il pannello solare appunto e la centralina dove poi va a fare il passaggio per andare a caricare la batteria dei servizi la parte d'ingresso al veicolo è fatta da due specchi da uno specchio perdono e da una parte lucida in fondo con una maniglia centrale sopra è dedicato alla parte multimediale dove abbiamo la possibilità di montare tv e quindi di far uscire far traslare al verso il corridoio il nostro tv e girarlo perché questa gira al contrario dopo subito alla sua destra troviamo le prese per il tv è una presa 220 che non guasta mai cp plus che il comando della stufa in questo caso abbiamo una combi a gasolio 4 kilowatt e abbiamo anche un winter pack il winter pack che sono di serie entrambi il winter pack va a gestire la parte del serbatoio fuori dal veicolo quindi la parte del serbatoio delle grigie coibentandolo quindi sicuramente parliamo di un prodotto adatto anche all'inverno questo il passaggio per andare in bagno poi in zona notte la cosa intelligente di questo modello è che si potrebbe dividere in tre zone quindi avere la zona al giorno la zona no la zona bagno quindi chiudendo questa porta poi vi farò vedere cosa viene fuori e la zona notte perché abbiamo la possibilità con una scorrevole di chiudere totalmente l'ambiente notte oltre a essere molto funzionale è assolutamente molto elegante vi faccio vedere la doccia la doccia è stata totalmente rivista l'anno scorso quando è stato rifatto appunto l'interno con questo finto mosaico con che va doveva ad alloggiarsi il doccino la barra appenderia che serve appunto per appendere le nostre giacche a vento o qualsiasi cosa debba sgocciolare quindi lo fa in vasca senza dar fastidio a nessuno le pareti che sono molto molto funzionali e molto molto di qualità mentre da quest'altra parte troviamo il bagno il bagno molto ampio abbiamo un vc che ruota in tutte le posizioni un bel pensile sotto il lavello sempre doppio un altro pensile sopra la finestra con la presa 220 se ci dovesse servire il collegamento di un fondo il rasoio e la nostra finestra appunto che già in bagno è molto difficile da trovare parliamo di una finestra opalina per mantenere la privacy totale a chi utilizza il bagno come vi spiegavo chiudendo questa porta abbiamo unito i due ambienti quindi abbiamo un bagno completo vc lavello ovviamente pensili e doccia dall'altra parte se vado a chiudere anche la parte di zona notte ecco qui che ho diviso a tutti gli effetti tre zone distinte quindi anche se dovesse avere degli ospiti posso addirittura gestire in questo modo evitando che si veda il bagno dalla dinette ma evitando soprattutto che chi vada in bagno possa vedere la mia zona notte no i letti sono veramente molto grandi parliamo di due letti molto lunghi e molto larghi ovviamente si può anche unire avete un materasso aggiuntivo che è il nagvida già compreso nell'offerta che si va a posizionare in mezzo e vi fa praticamente arrivare il diciamo il posto al centro quasi alla lunghezza degli altri due ballano qualche balla qualche centimetro ma in questo caso si potrebbe dormire in orizzontale o in verticale addirittura in tre persone perché diventa veramente un letto molto ampio probabilmente su camper il letto più grande che si può avere molto bella questa testata del letto arricchita dalle cucinerie che sono colorate con dei colori che vanno a riprendere anche una parte di cucineria davanti e poi l'ecopelle che va a confrontarsi con questo lucido sul marrone scuro lo rende veramente veramente molto bello senza contare poi lo specchio finale con led direi che è assolutamente una camera da letto che probabilmente in tanti neanche a casa abbiamo quindi sicuramente un lavoro fatto molto bene da elnag oblo panoramico quasi perché un crystal non è grande come un panoramico ma comunque un trasparente quindi fa entrare veramente tanta luce doppia finestra anche qui ha fatto un bel lavoro di eleganza le due finestre sono grandi con oscurante zanzariera ma hanno aggiunto delle tendine a pacchetto che vanno ad arricchire e sicuramente a valorizzare il veicolo gli armadi nel letto gemello sono sempre sotto il letto in questo caso si può alzare addirittura il gemello come dicevo di destra dove possiamo e possiamo andare ad appenderne le nostre cose i nostri vestiti le nostre camicie senza dover per forza utilizzare il pensile che comunque viene fatto aprire quindi si può comunque utilizzare un'altra cosa molto interessante è che i letti sono scaldati cioè la il sistema di canaline del riscaldamento passa anche vicino i letti lo potete vedere lì e lo vedete come se fosse tagliato sui lati questo per far sì che l'aria calda possa uscire dal lato e quindi scaldare il nostro letto quindi direi che è un camper assolutamente che va bene assolutamente per tutte le stagioni la stessa cosa la troviamo anche qua quello che cambia è che di là abbiamo la barra penderia di qua è semplicemente un diciamo un vanno dove si può contenere qualsiasi cosa ci possa servire ovviamente anch'esso ha il pensile di apertura nel caso volessimo caricarlo dal fianco abbiamo comunque un gradino che ci dà la possibilità di caricare quindi molto interessante ma non finisce qui perché dobbiamo vedere una cosa per cui è molto famoso il tiloft è uno dei primi semintegrali ad aver avuto il basculante in questo caso parliamo di un basculante molto molto bello e molto elegante perché la parte sotto è fatta totalmente in ecopelle poi con questa parte centrale dedicata all'alloggiamento delle luci comunque veramente molto curata perché abbiamo sempre il nostro lucido che va a fare da contrasto la discesa è molto semplice abbiamo un pulsante lui si abbassa ovviamente fino a fine corsa da solo si blocca in automatico chiaramente abbiamo le doghe in legno e la rete di protezione anticaduta sia a sinistra che a destra quindi verso la cabina la cosa che cambia è che su il 745 come lunghezza con i gemelli molto spesso perdiamo la porta libera quindi dobbiamo viene tenuto ad un'altezza tale che se anche dovessimo uscire viene molto comodo perché non dobbiamo fare chissà che cosa ma semplicemente abbassarci chiaramente in alcuni c'è la porta libera che è ancora meglio quindi questo è sicuramente un dato da tenere in considerazione se vi sta bene il fatto appunto di abbassarvi per uscire perché quello è chiaramente vincolante se qualcuno a dormire nella parte del basculante è un basculante chiaramente da due persone è dotato ovviamente di luci quindi quando lo abbasso possa avere le luci di lettura anche nella parte in alto lo posso fermare in qualsiasi posizione non devo per forza aspettare o arrivare al fine corsa la porta davanti è un fiat ducato come dicevo due due 140 cavalli il nuovo ducato quindi la nuova plancia bellissimo il nuovo volante già multifunzione con i comandi dell'autoradio quindi se doveste andare a mettere un autoradio dovremmo collegare anche i comandi al volante perché chiaramente ce l'avete già in dotazione questo è il monitor a specchietto che andrebbe messo sullo specchietto nel momento in cui si va a installare un autoradio e che qui viene installato nella parte centrale perché gli oscuranti plissettati che vedete molto spesso sono oscuranti plissettati che vengono dal basso verso l'alto quindi in quel caso il monitor non si può installare sullo specchietto perché non c'è non farebbe chiudere il nostro oscurante mentre nel caso di loft e gli oscuranti vengono chiusi da destra e sinistra al centro ma c'è già il diciamo lo svaso per contenere il nostro specchietto quindi il monitor si può trasferire tranquillamente sul nostro specchietto appunto e qui lasciarci libera la possibilità di inserire un doppio din se volete il doppio din centrale potete anche pensare di inserire l'elettrocamera che adesso è sullo specchietto quindi su questo monitor nel doppio din centrale quindi quando fate l'elettromarcia non avete un monitor in alto e un monitor in basso ma avete semplicemente il tutto nello stesso monitor che fa anche da radio dicevo appunto che i sedili sono girevoli nello stessa colorazione che scegliete per la parte posteriore quindi per la dinette avete i comandi al volante avete un volante multifunzione un po' meno delle marci di nuova generazione rotonda il vecchio era un pochino più articolato nuova plancia strumenti quindi clima chiusura automatica start and stop quindi avete diciamo una cabina assolutamente ad hoc questo veicolo così come ve l'ho descritto va ad un listino circa di 81.350 chiaramente un veicolo parliamo di un listino prezzi finito chiave in mano il veicolo ribadisco è un 2 2 140 cavalli con due pack inseriti che sono il pack expo e il pack enjoy per pack expo ve lo ripeto da capo per chi magari si fosse perso la prima parte del video il pack expo è parlando solo da 120 watt retrocamera oscuranti plissettati che sono quelli che vanno a oscurare la cabina la seconda il secondo pack si chiama pack enjoy invece vi da la veranda l'attacco gas esterno l'attacco acqua esterno la presa multifunzione esterna 12 volt 220 antenne tv e satellitare predisposizione chiaramente e la parete del garage attrezzata la parete posteriore del garage per finire il video vi ricordo che ovviamente la parte dedicata al tavolo si può abbassare alzare per fare un quinto letto quindi qua potreste avere due posti dietro due posti sul basculante e il quinto che può dormire in dinette perché il tavolo ha una gamba pneumatica che si abbassa e si alza quando avete bisogno e non perdiamo assolutamente lo sky view davanti che è uno bloc panoramico praticamente enorme che fa entrare veramente veramente tanta luce che si può oscurare chiaramente anche la zanzariera perché è apribile che va a richiedere totalmente l'offerta quindi direi che sicuramente siamo su un veicolo di alta alta gamma tenete conto che come vi ho detto prima ve lo ripeto per non dimenticarci nulla anche gli isofix abbiamo già inseriti nel prezzo ok quindi a questo punto io sono giovanni spero di averti fatto una buona recensione scrivilo nei commenti se c'è qualche dubbio o qualche info e ci vediamo al prossimo video ciao